I carabinieri di Pellaro hanno concluso un'indagine che ha portato all'identificazione di un giovane ritenuto responsabile di una serie di atti intimidatori e danneggiamenti ai danni di un responsabile di reparto di una ditta locale. Secondo le ricostruzioni, l'autore avrebbe agito per vendetta personale legata a contrasti sul luogo di lavoro. Le azioni intimidatorie includevano minacce, lettere anonime e danni ripetuti all'auto della vittima, come la foratura di pneumatici e la rottura dell'unotto posteriore. La svolta è arrivata dopo le denunce della vittima. I carabinieri hanno condotto un'indagine approfondita analizzando sistemi di videosorveglianza, effettuando appostamenti e riconoscimenti fotografici, oltre a una perquisizione domiciliare nell'abitazione del sospettato. Il 26 novembre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato e minacce.